Benvenuti in questa nuova puntata di Deepen, io sono Zap, oggi siamo in live finalmente su Spreaker dopo varie vicissitudini e problematiche tecniche, ovviamente l'app di Spreaker Studio ha deciso di dar di matto giusto oggi che io non avevo assolutamente voglia di fare la puntata, tant'è che siamo qua e i problemi tecnici ovviamente su Deepen non mancano mai e il bello della diretta e anche questo vi ricordo che siamo in live sia su Spreaker sia su Twitch dove potete vedermi, sentirmi, fare quello che volete, interagire con me tramite la chat e soprattutto vi suggerisco di andare a sentire se non l'avete ancora sentito la puntata a proposito della marijuana che speravo suscitasse qualche tipo di fervore, animosità tra i nostri ascoltatori invece non se l'è cagata nessuno quindi bene, benissimo sta andando a tuono invece la puntata sull'LSD, sulla marijuana, non so se non ci siete ancora arrivati o se non vi interessa il tema, comunque in ogni caso è una bella puntata, andatevelo ad ascoltare, se non la pensate come me visto che ci sono diversi infami che hanno messo non mi piace su YouTube, probabilmente senza neanche ascoltare la puntata, solo perché parlavo male della ganja, incredibile scrivete un commento se non siete d'accordo invece di mettere non mi piace e scappare come le faine, perché così suscitiamo, insomma si discute no? la discussione fa bene, fa bene allo spirito e fa bene alla mente soprattutto vi ricordo che se volete sostenerci potete darci una grossa mano su Twitch tramite un abbonamento gratuito se siete abbonati ad Amazon Prime c'è una fantastica guida sempre sul nostro canale YouTube e la trovate in realtà anche su Twitch, la trovate anche sul nostro sito e in pochi 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 passaggi potete abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch dandoci appunto un sostegno importante soprattutto perché sembra, si vocifera, che Twitch stia per eliminare questa possibilità quindi sfruttiamola in senso finché possiamo potete se no farci una fantastica donazione come hanno fatto questa settimana, perdonami mi sono dimenticato il nome anzi lo vado a recuperare, guardate una fantastica donazione, trovate anche lì tutti i riferimenti sul nostro sito se volete, Marta, Marta ha fatto una grande donazione, ti ringrazio e auguri per la tua gravidanza visto che c'è scritto che ci ascolta mentre sta aspettando di sfornare il suo primo genito quindi speriamo in bene, in bocca al lupo se volete potete anche comprare delle fantastiche magliette, merchandise, felpe di Deepen, di Deepen Crimini di quello che volete, trovate lo store sempre sul nostro sito se invece non volete tirar fuori un euro e vi capisco perché è un momento di crisi un po' per tutti potete tranquillamente aiutarci tramite una condivisione sui vostri social della vostra puntata preferita oppure facendo una bellissima e talentuosa recensione su Apple Podcast che ci dà sempre una mano a salire nelle classifiche e dopo questa lunghissima call to action vi dico che oggi facciamo una puntata che mi è stata chiesta da uno dei nostri VIP VIP, vi ricordo, al quale si accede scrivendo via Patreon e anche qui ci butto dentro, sono campione europeo di call to action verso i nostri pagamenti a favore, incredibile quindi il nostro Patreon che mi ha chiesto di fare una puntata a proposito delle droghe dei giovani ovvero le droghe che nascono dall'utilizzo un po' traviato di alcuni farmaci effettivamente non ero molto a conoscenza di questo argomento perché non avendo figli e non essendo più ormai, ahimè, nella fascia d'età interessata a questo genere di cose non conoscevo proprio anche perché ho scoperto essere una moda un po' dei tempi intorno al 2018 quindi quando io già avevo una certa età e quando è nata, o meglio si è diffusa, la trap che è un altro genere musicale che non è proprio dei miei tempi che non è che mi faccia proprio impazzire quindi parliamo della Lynn, o Purple Dunk, da Drunk, scusate che è appunto una bevanda che i giovani sembrano essere interessati a bere per riuscire a sballarsi, diciamo è un tema appunto che non conoscevo me lo sono un po' studicchiato tra un momento libero e l'altro e quindi oggi ne parliamo un po' e in realtà non ci credevo tanto all'inizio quando mi hanno detto di queste pratiche poi mi sono ricordato che quando ero giovane io ormai lontano, non so quando mi mandano messaggi su Telegram non vi rispondo, venite in chat a scrivere se volete in live insomma quando ero giovane io si usava, o meglio i ragazzi usavano mettersi la vodka negli occhi quindi ho pensato che effettivamente forse questa pratica non è così così strana, no? forse quella era un po' più, ancora più stupida in ogni caso ci sono diverse droghe che si possono estrarre dai farmaci come ho sempre detto su Dipenscienza mi piace molto di più il nome che gli anglosassoni danno alle medicine ovvero drugs perché appunto dà molto più il senso di quello che sono ovvero dei principi attivi che sostanzialmente non hanno nessuna distinzione dalle droghe se non la legalità ok? e quindi diciamo che la semantica inglese secondo me è molto più corretta rispetto alla nostra che divide i farmaci dalle droghe e questo è proprio l'esempio lampante esistono diverse droghe esistono diversi farmaci quindi che possono essere utilizzati come droghe oggi ne vediamo alcuni non perché allora vi spiego vi faccio un'altra premessa scusate so che questa è la puntata delle premesse però io sapete che su Dipenscienza non sono solito parlarvi troppo di principi attivi o di farmaci, di nomi di farmaci eccetera eccetera perché per una mia scelta personale ho deciso che non voglio fare informazione in quel senso per quello ci sono i medici, ci sono i farmacisti ci sono persone che hanno studiato i principi attivi che sanno come utilizzarli quindi se avete bisogno di qualcosa andate a chiedere a loro fare informazione qui su un podcast su questo genere di cose non è appunto il mio stile perché voglio evitare in assoluto che questo sia uno strumento di autodiagnosi tramite google cosa di cui sono in modo proprio categorico contro e di cui abbiamo parlato anche in una puntata specifica su Dipengiallo con Palla e oggi però ahimè dovrò fare dei nomi ma vi assicuro non sarà facile reperire reperire questi farmaci perché appunto dopo vi spiego in puntata ma diciamo che si è un po' corsi ai ripari quindi l'aline o purple drunk è sostanzialmente l'utilizzo di uno sciroppo per la tosse uno sciroppo per la tosse che viene diluito in grandi quantità in realtà è molto superiore rispetto a quelle che servirebbero per il suo scopo ovvero calmare la tosse in bibite gassate bibite gassate generalmente la principale che viene utilizzata è la Sprite non so bene il perché probabilmente perché lo sciroppo per la tosse insieme alla Sprite danno questo colore viola che è un po' anche iconico di diciamo l'utilizzo di questa droga può essere mischiata anche con altre bibite gassate dopo vedremo però quali sono i rischi di sbagliare anche la miscela è appunto una droga abbastanza tipica dei ragazzini per diversi motivi prima di tutto perché costa molto poco quando si riesce a reperire e c'è stato un periodo in cui i ragazzini andavano a rubare le ricette mediche per poi falsificarle e farsi quindi autoprescriversi diciamo alcuni di questi sciroppi in modo che vengano poi siano in grado di entrare in possesso di queste sostanze che molto spesso sono appunto per il quale diciamo comprarle è necessaria una prescrizione medica perché? perché ovviamente sono tutte sostanze di cui siamo a conoscenza cioè di cui il medico sa i pericoli il sistema sanitario nazionale e tanto quanto e quindi ovviamente non è che siamo scemi che diamo la morfina ai ragazzini e quindi molto spesso è necessario la prescrizione medica in realtà questa è una pratica molto più tipica degli Stati Uniti specialmente di alcuni stati degli Stati Uniti in cui questo non avviene sapete che negli Stati Uniti non c'è il sistema sanitario nazionale quindi molti farmaci tra cui alcuni di questi utilizzati per questo scopo non sono non è necessario avere una prescrizione medica quindi in questi stati è molto utilizzata questa pratica in altri sono corsi a ripari hanno messo la prescrizione in altri invece no una cosa che ha colpito anche noi una questione che ha colpito anche noi è che in Svizzera fino a poco tempo fa non era necessaria la prescrizione medica per andare a prendere alcuni di questi sciroppi per la tosse il più famoso è il Macatusin lo dico perché ormai tanto è irreperibile praticamente se non per necessità e quindi i ragazzi cosa facevano dato che era a libero commercio andavano in Svizzera quindi a comprare questo questo sciroppo per la tosse per poi utilizzarlo e sballarsi non so come si dice come si dice tra i giovani qual è il gergo attuale come dicevo invece molti altri in molti casi sono stati furti di ricette eccetera eccetera ma diciamo che specialmente in Italia grazie all'utilizzo della sarà tranquilla non abbiamo ancora iniziato sono dieci minuti che non dico niente praticamente quindi vai tranquilla dicevo che grazie alla ricetta elettronica questo diciamo questo problema si è di molto marginato quindi almeno in Italia oggi è molto difficile reperire certe sostanze specialmente per dei ragazzini che ho visto l'intervista su YouTube banalmente l'ho cercata su appunto una farmacista del Canton Ticino che diceva che anche loro che sapevano a un certo punto che i ragazzini utilizzavano il macatussin per drogarsi sostanzialmente seppur non fosse necessaria la ricetta medica appunto i farmacisti si sono sgamati a un certo punto e quindi hanno deciso di dire che non ce l'avevano o che era necessario non so avere un adulto con sé a quel punto i ragazzini si sono ingegnati quindi fermavano gli anziani fuori dalle farmacie per andare dentro a prendere il macatussin con qualche con qualche scamotage ma ovviamente anche lì poi i farmacisti si sono si sono svegliati di fuori quindi anche questa pratica si è molto limitata è tipica dei ragazzini poi ne parleremo un po' anche dopo perché è diciamo la droga utilizzata dai trapper possiamo dire sto facendo delle virgolette insomma di questo ne discutiamo dopo c'è stata tutta una polemica su sfere basta un paio d'anni fa quindi andiamo al succo perché si utilizzano gli sciroppi della tosse molto spesso gli sciroppi per la tosse esistono diversi principi attivi che possono essere utili per calmare la tosse però in generale gli sciroppi per la tosse hanno un obiettivo ovvero quello di deprimere leggermente chiaramente la la respirazione in modo da non suscitare il colpo di tosse e poi avere un effetto diciamo come dire antidolorifico e quindi sostanzialmente adesso non voglio dire una vaccata però molto in generale si può dire che gli sciroppi per la tosse hanno più o meno tutti gli stessi principi attivi venivano utilizzati quelli un po' più diciamo efficaci a questo scopo sono quelli a base di codeina e di prometazina parliamo un po' più nel dettaglio di queste due molecole in particolare della codeina che è quella che ci interessa proprio nel dettaglio la codeina è un alcaloide derivato dalla morfina che cosa vuol dire questo vuol dire che ci dà in alcune certe dosi degli effetti che sono paragonabili a quelli della morfina ovvero di forte depressione respiratoria e ovviamente analgesia quindi non percepisco più il dolore quindi è perfetto in questo senso come antitussivo per curare anzi per avere sollievo sostanzialmente dalla tosse problema appunto che la codeina in alte dosi viene modificata cioè non in alte dosi viene sempre modificata però con alte dosi può dare degli effetti che sono molto simili a quelli dell'eroina bevo un sorso d'acqua e proseguiamo effetti molto simili dicevo a quelli dell'eroina perché? perché sostanzialmente vengono metabolizzati nella stessa molecola ovvero che è la morfina come detto appunto ha questi due effetti di togliere la tosse quindi di analgesico e deprimere sia la tosse che la respirazione la morfina è molto pericolosa perché appunto ha un forte effetto di depressione della respirazione tant'è vero che vedremo dopo che l'overdose da diciamo lean appunto deprime fortemente la respirazione oltretutto ci dà un senso di ottundimento e di come dire di depressione totale dell'attività cerebrale sostanzialmente ci si addormenta e quando il rischio è molto forte è appunto di non svegliarsi più perché si arresta appunto la respirazione appunto l'effetto di questa droga è questo senso di assoluta pace assoluta pace e perdita totale di qualsiasi tipo di pensiero di preoccupazione con abbassamento della respirazione quindi sensazione ulteriore di rilassamento e il problema è che molto spesso l'utilizzo della lean è concomitante alla marijuana anche di questo volevo parlare più avanti ciao francesca ben arrivata su spricker quindi la codeina viene assorbita a livello del nostro intestino portata al fegato tramite il nostro sangue e qui si trova un enzima questo enzima cosa fa metabolizza la codeina quindi la trasforma sostanzialmente la codeina che ha il reale nome della codeina è il 3-metilmorfina questo spiega molto diciamo è molto palese che sia un derivato della morfina e la trasforma quindi in due composti che sono la morfina 6-glucoronide e la morfina 3-glucoronide che sono due composti molto 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 più affini e attivi sui recettori per gli opioidi e quindi hanno un effetto potenziato possiamo dire l'effetto di morfina effettivamente sui nostri recettori mentre la codeina essendo meno affine a questi recettori degli opioidi diciamo che ha un effetto più blando però come detto abbiamo una certa dose di codeina che viene trasformata quindi in morfina il problema vero è che appunto circa il 10% della codeina viene trasformata in morfina questo però questo circa 10% è molto circa nel senso che ogni persona è differente in questo senso abbiamo delle persone che hanno geneticamente un'attivazione questo è un discorso un po' complesso però non tutti abbiamo le stesse quantità di enzimi nel nostro corpo questo vuol dire che se io prendo una sostanza potrei avere un enzima che la modifica in quantità superiori di un'altra persona quindi magari io ne metabolizzo la codeina ne metabolizzo della dose che prendo il 30% il mio coetaneo di fianco a me che pesa come me che è uguale a me che magari è il mio gemello però ha una diversa genetica ha meno enzima e quindi ha un effetto molto minore e quindi dei rischi anche molto minori questa modificazione in una sostanza diciamo più pericolosa quindi da codeina a morfina riprende un po' il discorso che vi avevo fatto un po' di tempo fa non mi ricordo esattamente in quale puntata però che il fegato tende a modificare le sostanze che riceve per renderle più facilmente eliminabili adesso ve la sto semplificando un po' Matilde stai molto attenta perché poi mi devi correggere e soprattutto se non sai questa cosa è fondamentale quindi abbiamo reazioni di fase 1 di fase 2 sono dei tipi di reazioni diverse che tendono a appunto modificare una sostanza un principio attivo in modo che questo sia più facilmente eliminabile sistemi di eliminazione sono banalmente principalmente tra la respirazione o anche il sudore possiamo aggiungere le urine e le feci perché questo sia più facilmente eliminabile deve essere più idrosolubile e non è detto che la modificazione di questo principio attivo renda una molecola meno potente o meno dannosa questo vuol dire che esattamente come in questo caso la codeina viene trasformata in morfina e quindi in una sostanza molto più pericolosa esatto cetocromo P450 sono le frasi che si dicono sempre a ruota agli esami di medicina sì sì siamo anche su twitch fra cos'è che nessuno condivide ah brava bravo mi ha tolto le parole di bocca quindi condividiamo il link sui gruppi per favore quindi questo è anche il motivo per il quale per alcuni farmaci sia in questo caso i sciroppi per la tosse ma come tanti altri farmaci in realtà subiscono questo tipo di modificazione ha una sostanza magari più facilmente eliminabile tramite il fegato ma molto pericolosa è proprio per questo perché che serve diciamo la prescrizione medica no ogni principio attivo il medico e il farmacista anche devono sapere che percorso fa all'interno del nostro corpo e che cosa danneggia quindi del rischio anche abbiamo parlato quindi insomma vi è chiaro se io ho tantissime enzima vuol dire che produco molto più molto più morfina quindi ho un effetto molto più potente e anche un rischio molto più più elevato poi la prometazina è un antistaminico sostanzialmente anche qui vorrei farvi due ore di menata sulla conoscenza di farmaci ve la evito perché ve l'ho già un po' spiegato prima e sostanzialmente volevo dirvi però che tutte le persone hanno preso un antistaminico nella loro vita no? magari c'è qualcuno che ha un'allergia c'è chi ha le allergie stagionali e l'antistaminico è proprio uno di quei farmaci che tendiamo a prendere alla leggera in realtà però non sappiamo cosa fanno cioè molto spesso non è che non sappiamo cosa fanno i medici cioè chi ha studiato sa cosa fa però chi lo prende generalmente pensa che sia non so tipo l'enterogermina no? una roba che ti bevi e chi se ne frega cosa fa non fa quasi niente non è assolutamente vero gli antistaminici sono dei farmaci che a volte possono avere delle gravi controindicazioni e perché vi sto dicendo questo perché appunto negli sciroppi della tosse molto spesso appunto è presente la prometazzina insieme appunto all'accoleina e l'associazione di queste due più magari l'utilizzo l'utilizzo di altre droghe o magari l'alcol o magari l'alcol quindi l'utilizzo unito di più sostanze diverse non sappiamo come va a agire o meglio chi lo fa non sa come va a agire perché se lo sapessi vi assicuro non lo farebbe bevo un sorso d'acqua e proseguiamo se avete delle domande o minchiate da dire su twitch o su speaker scrivete pure che io leggo tutto quindi torniamo alla droga che vi ho parlato di farmaci alla fine sto facendo una puntata sulla farmacologia e non su questa benedetta droga mischiando appunto prometazina e codeina si ha questo effetto di rincoglionimento quindi esistono tra l'altro dei sciroppi che non li hanno entrambi anzi molto spesso non li hanno entrambi perché appunto ha un effetto abbastanza importante anche alle dosi prescritte dal medico tant'è vero che con alcuni antistaminici specialmente è sconsigliato guidare per esempio o manovrare grossi macchinari quindi se hai delle allergie per esempio devi stare attento a questa cosa perché molti antistaminici danno un effetto di sonnolenza importante poi in realtà ci sono quelli di nuova generazione che lo fanno molto meno però diciamo che la linea generale è questa niente mi sono scritto il più famoso di questi sciroppi è l'actavis che è famosissimo in america perché viene venduto senza prescrizione medica e quindi viene super utilizzato ovviamente a questo scopo possiamo dire ricreativo anche se forse non è la parola giusta leggo i vostri commenti Callen che è fra dice che quelli di nuova generazione non fanno niente non sono d'accordo no non è vero hanno degli effetti diversi però hanno anche molti meno effetti collaterali quindi sono diciamo un po' in base al tipo di allergia che hai e cosa deve fare ti prescrivono magari anche quelli di vecchia generazione per esempio molto spesso tanti medici hanno dei farmaci di cui si fidano so che sembra stupido dirlo però se do un farmaco e vedo i risultati tendo ad affidarmi un po' sempre a quel farmaco perché appunto mi fido del suo effetto sì che non avessi caso di morte allora Callen dice una volta mi hanno prescritto un antistaminico assicurandosi che io non avessi caso di morte improvvisa in famiglia sì perché questo è uno degli effetti collaterali la causa di morte improvvisa può essere può essere diciamo causata da diverse diverse cose principalmente una trombosi per esempio e piuttosto che arresti cardiaci e robe del genere quindi bisogna sostanzialmente andare a controllare che tu non sia un soggetto a rischio non ti hanno dato niente di particolare hai solamente trovato un medico bravo quindi che prima di prescriverti qualcosa si assicura che tu non abbia dei fattori di rischio diciamo importanti arriviamo alla lean la lean come si assume abbiamo detto all'inizio si diluisce in alcune bibite principalmente la sprite o la fanta molto più spesso la sprite e il fatto che queste sostanze vengano mescolate con una bibita gassata è un ulteriore fattore di rischio per questo tipo di droga che viene altamente invece preso sotto gamba perché perché se non sappiamo che cosa fa la codeina che si trasforma in morfina che quindi equivale quasi a prendere dell'eroina non sappiamo cosa fa la prometazzina non sappiamo neanche che questa non può essere assunta con la caffeina per esempio o con la taurina per esempio caffeina e taurina sono contenute in diverse bibite gassate per esempio banalmente nella coca cola ciao alessio non ti sei perso niente oggi sto facendo un puntato un po' straparlata poi poi la recuperi la recuperi in un secondo momento quindi queste due sostanze sono presenti per esempio nella red bull no e la red bull è un'altra di quelle bibite diciamo tipica dell'età giovanile viene utilizzata anche per fare diversi cocktail così come la coca cola e quindi chi lo sa se in discoteca mi sono preso un cuba libre che è a base di coca cola e contiene alcol ulteriormente che aggrava ancora di più la situazione quale sarà l'effetto finale ah Matilde dice comunque a me solo il pensiero di bere un sciroppo con la sprite fa star male anche se non avesse effetti ma in realtà gli sciroppi per la tosse devo dire che anche di questo non sono molto d'accordo molto spesso hanno dei gusti molto dolci perché perché lo sciroppo per la tosse molto spesso ne hanno bisogno i bambini quindi per favorire l'ingestione sostanzialmente del farmaco gli danno un gusto fruttato quindi anche lì io sono più per i farmaci cattivi quelli che quando li prendi ti viene da sputare perché così sei diciamo stimolato a prenderne meno però molto spesso appunto hanno invece dei gusti dolci o comunque accettabili quindi molto pericoloso specialmente dicevo per il cuore già di per sé la Red Bull prenderne tanta anche la Coca Cola anche il caffè adesso non è Red Bull non mi denunciare tutte le bibite contenuto di caffeina taurina e queste sostanze eccitanti diciamo che c'è un limite di dose che puoi assumere senza star male senza avere tacchi cardie quindi già di per sé stai prendendo una sostanza che è zeppa di caffeina oltretutto stai mischiando altre sostanze e quindi è per questo che diciamo i più furbi e anche qui sto facendo delle virgolette sarcastiche la utilizzano con la Sprite che non non contiene appunto caffeina però chissà se il pirla di turno non sa che non deve assumere insieme la caffeina e quindi quindi esistono questi farmaci in Italia certo che sì esistono ma appunto il più famoso in realtà è svizzero che è il macato sin perché ve l'ho detto prima perché era senza ricette eccetera eccetera in Italia esistono dei farmaci simili dei sciroppi per la tosse simili e come detto prima però grazie alla diciamo che in realtà anche in Italia si trova il macato sin perché e comunque essendo essendo stato non sotto sistema sanitario nazionale veniva venduto un po' un po' ovunque e quindi non era specialmente nelle farmacie del nord Italia non era così difficile da trovare poi finché non si è venuta a conoscenza di questo uso che ne facevano i ragazzi e quindi si è messo sotto sotto prescrizione medica oggi appunto con la ricetta elettronica è molto 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 complesso riuscire a fregare tutto il sistema perché la ricetta elettronica sostanzialmente ha diciamo tre step di convalidazione quindi un codice del medico un codice della farmacia un codice del farmaco e soprattutto per inviarla è necessario avere il computer del dottore sostanzialmente quindi è molto più difficile insomma non si può rubare in questo senso però è diventata molto famosa quando la ricetta elettronica era ancora in via di transizione specialmente diciamo intorno al punto 2017 2018 quando la nostra preoccupazione non era il coronavirus il mondo era ancora bello potevamo uscire senza mascherina abbracciarci e baciarci e il nostro problema principale diciamo che il nostro crucio assoluto era quanto costasse l'acqua della Ferragni bei tempi di quando questi erano i nostri problemi e in quel periodo nasceva e anzi cresceva in Italia la trap trap che è un po' il manifesto di questo tipo di droghe e ci sono state appunto come vi dicevo all'inizio puntata anche diverse polemiche incentrate più che altro su Sfera e Basta che appunto è stato il trapper emergente di quel periodo che oltre a sfornare una quantità in vera e conda di musica di merda utilizza anzi ha utilizzato per sua stessa dichiarazione non sto dicendo io la Lynn dicendo che ci sono le interviste andatevele a vedere fanno un po' ridere che lui ha bisogno insomma che questa sostanza gli dà l'ispirazione creativa per produrre questa grande quantità di musica incredibile facciamo un applauso a Sfera e Basta e appunto oltre a farne uso c'è un suo video che gira è molto anch'esso molto facile da trovare di lui che si prepara una dose a un concerto e se la beve con ovazione del pubblico eccetera eccetera ovviamente non è che si può dare la colpa a Sfera e Basta della diffusione della Lynn perché sarebbe un po' ipocrita nel senso che cioè da sempre la musica è stata come dire il veicolo della droga di moda no? pensiamo a Bob Marley con la marijuana pensiamo a tutto il rock con tutte le droghe cioè praticamente e quindi diciamo che adesso non voglio fare la puntata con Sfera e Basta perché è un'altra parte che non lo conosco e non mi interessa neanche additarlo diciamo che ogni periodo ha la sua musica di moda e ogni periodo ha la sua droga di moda anche questo l'abbiamo detto un po' nelle vecchie puntate e se devo dirla tutta anche Dio benedica che questa generazione o comunque la scorsa generazione abbia preso di mira come moda la Lynn piuttosto che l'eroina no? come è successo negli anni 60 che è stata veramente una piaga dell'Italia ma che in realtà è stata una piaga per tanti paesi del mondo e quindi dai non c'è andata neanche tanto male il problema il problema della Lynn il problema della Lynn è che non allora già di per sé è pericolosa nel senso che molto spesso gli sciroppi per la tosse vengono Sara mi chiede se presa piccole dosi a lungo andare può causare dei danni assolutamente sì la Lynn dà gli stessi danni a grandi dosi ovviamente a dosi molto più ampie e molto prolungate dell'eroina perché sostanzialmente la molecola è la stessa non non ci sono grosse differenze da quel punto di vista ovviamente è molto più difficile andare a avere una diciamo un effetto così potente come l'overdose da eroina e non ha neanche devo dirla tutta lo stesso tipo di ossofazione però possiamo insomma andate ad ascoltarvi la puntata sull'eroina non ha tanto da discostarsi da questa da questa droga se non appunto per le dosi e per la potenza che ovviamente è molto più efficace l'eroina in quel senso però di contro questa droga ha diciamo il fatto è che viene sottovalutata no l'eroina a partire dal fatto che il modo principale con il quale ci si droga di eroina è iniettandosela in vena già questo è un ostacolo emotivo e psicologico per un ragazzo giovane a non iniziare cioè è molto più facile per esempio sniffare della cocaina è molto meno di impatto emotivo piuttosto che bucarsi il braccio no la lina invece si beve quindi è ancora più facile ciao bebo ben arrivato esatto bebo è un utilizzatore di lina esce subito le sue conoscenze cosa vi stavo dicendo che è molto facile assumerla e soprattutto è molto facile assumerne troppa nel senso che vi stavo dicendo all'inizio che gli sciroppi per la tosse molto spesso vengono venduti in dosi abbondanti perché perché te lo tieni lì non va male ne prendi magari di solito si danno un paio di cucchiai a dose e e magari questa questa terapia si prolunga anche per giorni e poi generalmente tutti abbiamo nel nello scompartimento dove teniamo i farmaci quello sciroppi per la tosse che è lì da vent'anni e quando la volta che ci serve lo riutilizziamo e anche perché più te ne vendono più la casa farmaceutica guadagna quindi se tu lo butti peggio per te loro comunque hanno guadagnato quindi queste grandi dosi vengono generalmente versate all'interno della sprite ed è molto facile sbagliarsi cioè se io devo prenderne 80 ml e il barattolo è da 150 una distrazione un voler esagerare un voler fare il figo con gli amici insomma come detto prima te la bevi non è di impatto emotivo quindi è molto facile esagerare no e esagerare vuol dire provocarsi dei magari non dei gravi danni immediati ma un forte pericolo cioè come detto prima non so io tu come vi spiego cioè non so quanta dose ho quanto enzima ho che mi trasforma quella sostanza in morfina e quindi sto facendo una specie di roulette russa cioè se esagero quella dose non so quanta di questa dose verrà trasformata in morfina e quindi non so neanche quali effetti avrò se non so quali sono gli effetti è molto probabile che a lungo andare sarà più facile che esagererò e quindi un bel giorno ci si addormenta e si crepa e come detto è una stupidaggine cioè è veramente molto facile vi assicuro esatto oltretutto per sembrare come dice Bebo per sembrare dei scemi per delle ore perché poi è una droga che ti rincoglionisce assolutamente non riesci a pensare a niente non hai le forze di fare niente in questo senso ci sono tante altre droghe che attirano molto di più che avrebbe molto più senso aver voglia di provare piuttosto che questa oltretutto vi dicevo all'inizio che questa è una droga che tipicamente si utilizza insieme alla marijuana marijuana che in parte è dannosa di per sé ne abbiamo parlato nella scorsa puntata andate ad ascoltarla se non l'avete ancora fatto e poi unita questa droga è ulteriormente più pericolosa molto spesso poi infatti i grandi conoscitori degli opioidi e scoperto che ce ne sono effettivamente utilizzano altre droghe per tenersi svegli diciamo perché appunto il sonno è il principale pericolo rispetto a questa droga perché non ci si rende conto effettivamente se non si riesce più a respirare quindi l'overdose un po' a sto punto dice fra meglio la cocaina che senso ha rincogionersi per ore sì nel senso che oltretutto se pensi che sono droghe che molto spesso vengono usate al di sotto dei 15 anni cioè io ho visto un intervistava un ragazzino trovato su youtube e diceva eh no perché questa droga cioè ti toglie tutti i problemi ma c'ha 12 anni cosa cazzo che cazzo di problemi devi avere da togliere dalla tua mente cioè mi immagino quali sono i tuoi problemi avrei preso un 4 in latino oh mio dio cioè sì anche io non capisco bene quindi appunto sintomi abbiamo detto simili a quelli dell'eroina per l'overdose rischi paragonabili possiamo dire a quelli dell'eroina e oltretutto appunto se utilizzati con marijuana alcol e caffeina la soluzione in realtà non c'è nel senso che la soluzione alla diffusione di questa droga è in parte lo è stata la ricetta elettronica che sicuramente ha messo una certa difficoltà nel reperire queste sostanze tanto è vero che c'è uno smercio pazzesco nel dark web di questi sciroppi della tosse diciamo un po' antichi che vengono venduti a prezzi folli appunto perché vengono utilizzati in questa maniera e la gente lo sa e dall'altra parte sempre spulciando ho visto una un uno psicologo che tratta appunto di queste tematiche quindi l'utilizzo di droghe specialmente nei giovani sì scusate sto straparlando ma perché sto leggendo i vostri messaggi appunto lo psicologo che parlava di queste problematiche e che diceva sostanzialmente che la soluzione alle droghe non c'è no abbiamo parlato anche di questo nella puntata sull'eroina ciclicamente c'è il ritorno di una certa droga è un po' gira in base alla moda un po' gira in base a quello che le mafie eccetera eccetera riescono a smerciare e la soluzione efficace forse che ho pensato e che mi trovo d'accordo con questo psicologo che appunto la spiegava è trovare un'alternativa come dire fruibile dai ragazzi all'utilizzo delle droghe ovvero fare qualcosa di intelligente nel proprio tempo libero piuttosto che annoiarsi e quindi aver voglia di provare una droga del genere quindi in questo senso mi sento anche di dire che appunto a proposito della polemica su Sfera e Basta che ovviamente non è colpa sua se i ragazzi si drogano è anche vero che chiamare una canzone Blunt e Sprite che appunto è come si utilizza questa droga quindi marijuana e Sprite con dentro queste sostanze forse non è efficacissimo per combatterla però ovviamente come detto prima ogni periodo ha la sua musica e la sua droga di eccellenza e intorno al 2018 fino all'anno scorso più o meno è stata questa quindi ragazzi io con questo episodio avrei concluso la mia serie sulle droghe so che l'avevo detto già la scorsa puntata ma appunto se un patron mi chiede una puntata io non posso esimermi dal farla quindi state attenti se vostro figlio vostro nipote vostro cugino inizia a bere un sacco di Sprite e fa sempre dei colpetti di tosse per di panare i dubbi aspetta Bebo che leggo il tuo messaggio sono delle idee che andrebbero legalizzate tutte le droghe perché tanto è un problema che esisterà sempre allora un'opinione molto forte dai parliamo nei due minuti poi chiudo la puntata sì io in realtà la penso abbastanza come te nel senso specialmente sulle droghe leggere come la marijuana anche qui nella puntata sulla marijuana vi ho detto che non esiste una differenza tra droga leggera e droga pesante però possiamo dire di sì vorrei cioè quello che mi piacerebbe vedere è una legalizzazione però molto molto stretta posso sapere come processa il corpo la codeina sì Bebo ne ho parlato all'inizio della puntata comunque se vuoi poi te lo scrivo su telegram vorrei appunto vedere una legalizzazione molto stretta perché appunto la marijuana è la droga più utilizzata oggi nel mondo quindi voglio dire non mi sembra che la come dire il proibizionismo stia avendo gli effetti sperati dal nostro dal nostro sistema statale comunque di questo poi magari ne parliamo con palla in una puntata di pengiallo o in una live di instagram io ragazzi vi dicevo oggi concludo la mia miniserie sulle droghe se avete altre domande da farmi a proposito delle droghe se siete curiosi di un'altra droga per esempio mi era stata chiesta la crocodile ma anche quella non la conosco molto bene magari se voglio la settimana prossima ve la porto magari no dipende un po' come mi gira nel caso riprendiamo il riprendiamo le puntate sulla psichiatria e arriviamo un po' alle malattie quelle un po' particolari io vi saluto vi ringrazio per essere rimasti collegati fino all'ora di cena tant'è vero che il mio stomaco inizia a brontolare quindi per questo io vi saluterei e ci sentiamo nel prossimo episodio di pen scienza ciao a tutti ragazzi mi raccomando fate una bella recensione su apple podcast ciao